Una serata tra danza, musica e teatro. Sul palco dell'Anfiteatro Romano di Arezzo è infatti andato in scena, riconnezioni artistiche, un originale progetto nato dalla collaborazione tra tre realtà storiche a retine, Libera Accademia del Teatro, Alfa Ballet e Jazz Club Arezzo. L'emozione principale è quella proprio di riconnettere le persone e riportare un po' di serenità. Ecco, lo scopo principale era quello di stare insieme a una serata con il sorriso sulle labbra che fosse di buon auspicio per il nuovo anno che sta iniziando. Le parole e i gesti del teatro si sono così fusi alle coreografie e i passi di danza, il tutto scandito dalle note della musica jazz. Negami il pane, l'aere, la luce, la primavera. e il tuo sorriso mai, perché io ne morrei. Però tu risa nunca perché mi morirea. Era una sfida veramente per noi significativa, noi musicisti di jazz abituati a improvvisare, invece qui abbiamo dovuto seguire molto attentamente le esigenze del ballo e della poesia e degli attori, per cui ci siamo diversi tantissimo, la sfida l'abbiamo penso abbastanza vinta. Spero di poterlo ricondividere presto questo spettacolo perché ci teniamo a farlo conoscere perché è una grande produzione, grandi energie e grande felicità. Grazie.